Abbiamo parlato del perché, qual è il ruolo del project manager all'interno dei progetti di decarbonizzazione. Abbiamo raccontato dell'opportunità che la decarbonizzazione porta per la nascita di nuovi prodeci e le nuove competenze, dove ci sono competenze di sistema, competenze di prodotto e competenze energetiche che sono richieste ai project manager per consentire, per poter misurare che l'implementazione di un progetto porta realmente alla riduzione del campo footprint. Abbiamo portato alcuni esempi su varie tematiche, dai data center all'industria energivore, al terziario per esempio, abbiamo portato alcuni esempi concreti di come questi aspetti sono sempre più visti e francamente abbiamo anche fatto una piccola menzione alla tassonomia europea che dovrebbe riuscire a portare fuori dalle aziende o fuori da questi progetti il vero valore di queste attività in ambito di decarbonizzazione. Abbiamo dei progetti bellissimi anche in alcuni paesi stranieri, dove per esempio uno deve valutare un'infrastruttura molto grande, per esempio c'è questo progetto in Inghilterra, si chiama HS2 Pubblico, quindi se ne può parlare, dove vogliono togliere centinaia di migliaia di auto che tutti i giorni vanno a Londra e sostituire queste auto tramite un treno dedicato. Quindi capire come ogni piccolo metro cubo di cemento, ogni tonnellata di roccia scavata per consentire questo passaggio sotto ha un impatto ambientale e la somma di tutti questi impatti ambientali deve essere inferiore a quello che io vorrei poi risparmiare. Quindi è un bilancio non solo economico, il project manager non deve solo fare il bilancio economico, stare nei tempi, nei costi e nelle condizioni contrattuali. Nelle condizioni contrattuali pian pianino sta entrando anche il carbon footprint. Doviamo con eventi come questo cominciare a trasmettere l'importanza del ruolo del project management per implementare questi progetti. per essere sicuro che a fine vita, quando il progetto viene consegnato, è più quello che evitiamo di quello che abbiamo creato per il progetto.